Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono qui su Minecraft con la serie Custom Map di merda Allora, giocatore singolo, andiamo su... dov'era? La Futo, nuova Custom Map, creata da... non so chi Allora, costruisco il terreno Ok, che cazzo è sta Custom Map? Non trovo niente Ecco, lag improvviso Uh, la modalità è giù, cos'è? Postate in modalità sopravvivenza, tutto da solo ha fatto Premi A per aprire il tuo avventario, perchè mo sta laggando? Cazzo è qua? Oddio Che mi laghi così non è normale Allora Prima di iniziare, clicca sui bottoni Stiamo aggiornati in modalità sopravvivenza Modalità sopravvivenza Ok Siccome sono tag cagno Mi secca mettere le torce Quindi prendi queste pozioni E quindi? E quindi? Che cazzo è? Oddio Cominciamo male Che cazzo? Mi stecca Storia No, dobbiamo leggere pure la storia Madò Perché mi fa così lo schermo Benvenuto nel mio terzo custom up Il mio contatto Skype Non volevo dire Vabbè Storia, ti ha appena esploso la casa Con una foto importante che costava Money E tu dovrai cercare questa foto Indovinare l'indovinelli Questa mappa Ti devi Ricordare tutto quello che ti Arrò vedere Aspettate che non ho letto tutto Creeper Scheleto Quale mob Fa meno male? Che cazzo ne so Per me è lo zombie? Oh Che cazzo devo fare qua? Oddio Che ne so quale zombie Che è il rumore qua? Sento il rumore di qualcuno zombie Che cazzo è qua? Oddio Fuck you Che cazzo è diventato qua? C'è un intreccio tra Che cazzo è? Oddio Che cazzo succede qua? Cosa era? Ah era un percorso Segui la redstone Oddio Minchia che custom up Spacca i culi Allora Clicca Per set spawn Ok Almeno con i command block Ci siamo Prova 2 Parkour facile Mod voglio capire il senso Ecco Parkour facile Cado nell'acqua Poi con questo lag Poi con questo lag Immenso Nemmeno due chunks Non esco Minimo Ora si Lag Bloccherà tutto Lag estremo Ok Ok Devo scaricare Devo scaricare optifine Da quando Ho messo il map Map Così Ok Ok Che cazzo è qua Cosa è? Non ho capito Perché Perché Uno non ci pensa Fine parkour Lo so È stato Banalo Banale Allora Allora Giriamo No Devo scaricare optifine Non si può giocare così Quanto so bello E ora Whee Che cazzo succede qua Allora Leggi per scoprire la porta giusta Spawn set 186,7 200 120 Ok Che cazzo devo fare qua Per entrare nelle porte Devi risolvere questo calcolo Matematico 80 per 5 Diso 2 Lo scrivo Lo scrivo in lettere 80 per 5 Diviso 2 Tu mi stai chiedendo a me Di fare matematica Ma se ho 4 a scuola A fare matematica Allora 80 Per 5 E Aspettate 80 2,2,6 1,2,3,24 8 per 4 3,6 8 Allora Allora Credo faccia 200 200 Se c'è 200 Se c'è 200 Se c'è 200 Allora per forza 200 Andiamo E se ho indovinato Sono un mostro in matematica Divento un mostro in matematica Uh Che cazzo è qua L'acqua L'acqua Va bene WII Che cazzo è qua Capiamo Minerali messi a random Perché Perché sta accusa così Andiamo 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 di qua Che cazzo è qua Ancora Ma basta E quindi E quindi Dove cazzo devo andare mo Sto scappando così a cazzo Tra i cartelli Che cazzo è qua Perché? Perché è così? Vabbè sono finta che questa sia la strada Giusto E poi dopo essere arrivati qua Spero Era 200 almeno Che cazzo è qua Set spawn Se clicchi Vediamo Che cazzo è qua Oddio Eh se ne va giù Sapevo che non era 200 Vabbè io me ne vado giù Ah no Penso fosse il buio Prova Prova ottica Attenzione se fappi troppo No vabbè Ma lagga Lagga E quindi questa era la prova ottica Vaffanculo Vaffanculo Ciò non significa che io non fai Feppi Comunque Prova cecchino Eh non mi funziona il tasto Ehm Ah in pratica dovrei fare così No Ah ecco il tasto mi funziona Facchio Minchia Era collegato bene Comunque Ma andiamo di qua E che lagga così Oppure aggiungimi su sky Che cosa Hai vinto Riccardo Giussino Ricchimi il dio Fotomine Se vuoi iscriviti al mio canale Oppure aggiungimi Cioè questa È una custom map Oddio santo Oddio Sputare sul nome custom map Ti dovrei aggiungere Come si chiami Fotomine Allora Ricchi il mito Oddio Va bene Io vi saluto ragazzi Per questa Questa terza puntata di Custom map di merda È tutto Ricordate di mettere mi piace Iscrivervi al canale E ciao a tutti ragazzi Ciao 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 ciao